Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regione della Pace, del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e anche a tutti gli amici di Radio Domina Nostra. Questa sera siamo in diretta con la lettura e il commento della Dominus Iesus. Questo documento della Congregazione per la Dottrina della Fede è una dichiarazione circa l'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa. E' importante che noi approfondiamo questo tema che sembrerebbe scontato ma che purtroppo nel nostro tempo non viene più adeguatamente spiegato, adeguatamente chiarito e adeguatamente anche creduto. Ecco perché Giovanni Paolo II e insieme con lui l'allora Cardinale Ratzinger, oggi Benedetto XVI Papa Emerito, hanno sentito la necessità di scrivere questo documento per chiarire bene questi punti fondamentali della Dottrina della Chiesa Cattolica che purtroppo in molti diciamo addetti ai lavori incominciavano ad essere messi un po' in discussione. Ecco, quindi tanti teologi, anche alcuni cardinali, vescovi e tanti sacerdoti incominciavano insomma ad andare un po' fuori di strada e quindi ecco che il Papa San Giovanni Paolo II e l'allora Cardinale Ratzinger hanno voluto promulgare questo bellissimo documento. Abbiamo già fatto due incontri, quindi adesso ripartiamo da dove più o meno abbiamo lasciato e ripetiamo anche qualche cosa. Richiamiamo questo concetto fondamentale. Intanto vi chiedo di dirmi se si sente bene. Così vado avanti quanto è anche l'età. E iniziamo prima del commento con una preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Entriamo subito nel vivo del documento. Pienezza e definitività della rivelazione di Gesù Cristo. Dice la Congregazione per la Dottrina della Fede Per porre rimedio a questa mentalità relativistica che si sta sempre più diffondendo, occorre ribadire anzitutto il carattere definitivo e completo della rivelazione di Gesù Cristo. Deve essere infatti fermamente creduta L'affermazione che nel mistero di Gesù Cristo Figlio di Dio incarnato, il quale la via, la verità e la vita, si dà la rivelazione della pienezza della verità divina. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio onigenito che è nel seno del Padre Lui lo ha rivelato. E ancora E' in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità e voi avete in Lui parte alla sua pienezza. Ecco, vediamo che vengono chiamati questi brani chiarissimi del Vangelo e poi anche delle lettere del Nuovo Testamento di San Paolo dove si afferma con chiarezza e con certezza che nella persona di Gesù Cristo c'è tutta la pienezza della rivelazione di Dio. Tant'è che anche Santa Teresa Davila diceva non possiamo conoscere Dio se non attraverso la santa umanità di Gesù Cristo. Ecco perché Dio si fa uomo, perché l'uomo altrimenti mai avrebbe potuto incontrare il suo Dio così come Egli è. Ma si sarebbe sempre fatto una immagine più o meno somigliante a Dio ma molto lontana da Dio in quello che è nella sua essenza. Perché all'uomo è impossibile poter salire spiritualmente fino alle altezze di Dio e conoscere l'essenza di Dio. Invece venendo Dio nel mondo per mezzo del figlio suo incarnandosi nel grembo della Vergine Maria facendosi uomo vivendo da uomo parlando da uomo ma essendo Dio ecco che si mette al nostro piano e ci rende capaci di poterli incontrare realmente per quelle che sono le nostre capacità. Perché l'uomo è fatto come dice un detto latino capax dei cioè capace di Dio capace di relazionarsi con Dio di incontrare realmente Dio perché siamo stati creati così a immagine e somiglianza di Dio però nessuno potrebbe conoscere Dio nell'intimo del suo mistero se non attraverso il figlio di Dio che si è fatto uomo. Questa è una cosa molto importante perché come dicevo prima anche teologi cardinali vescovi sacerdoti mettono in dubbio questo principio fondamentale attraverso una mentalità relativistica come dice il documento poi sappiamo più avanti che Benedetto XVI da cardinale nella missa proeriggendo pontifici disse con chiarezza che oggi vi è la cosiddetta dittatura del relativismo quindi qualcosa ancora di più grave di questa mentalità relativistica è un qualcosa che si vuole imporre che cos'è questa dittatura del relativismo dire che non esiste nulla di assoluto che l'uomo non può conoscere la verità assoluta è in definitiva che l'uomo non può conoscere Dio che è verità assoluta e invece non è così perché Dio facendosi uomo ci rende capaci per quella che è la nostra possibilità di conoscere la sua verità e di conoscere la sua essenza divina e San Giovanni poi dirà in una lapidaria affermazione della sua prima lettera al capitolo 4 versetto 4 Dio è amore e all'inizio di questa lettera dirà quello che i nostri occhi hanno contemplato che le nostre mani hanno toccato che le nostre orecchie hanno ascoltato ossia il verbo della vita questo noi vi annunciamo quindi l'esperienza diretta del figlio di Dio nella carne nell'uomo Cristo Gesù fa sì che questa esperienza fa conoscere l'essenza di Dio il quale è amore in tutto il suo mistero chiaramente dall'incarnazione alla vita all'insegnamento alla potenza che esprime nella guarigione nei miracoli nella liberazione del maligno e poi infine lo splendore della manifestazione dell'amore di Dio attraverso la passione e la sua morte e definitivamente nella sua resurrezione andiamo avanti fedele alla parola di Dio il concilio Vaticano II insegna la profonda verità poi sia su Dio sia sulla salvezza dell'uomo risplende a noi per mezzo di questa rivelazione nel Cristo il quale insieme il Mediatore è la pienezza di tutta la rivelazione ecco in Cristo c'è sia il Mediatore sia la pienezza della rivelazione perché in Lui come abbiamo detto prima secondo quello che dice San Paolo nella lettera ai Colossesi abita corporalmente tutta la pienezza della divinità l'umanità di Cristo media la rivelazione la sua divinità si dà completamente nella sua umanità per quello che appunto l'uomo può riuscire a comprendere di Dio E ribadisce continua il documento Gesù Cristo dunque verbo fatto carne mandato come uomo agli uomini parla le parole di Dio e porta a compimento l'opera di salvezza affidatagli dal Padre perciò egli vedendo il quale si vede il Padre confronto a Giovanni 14.9 col fatto stesso della sua presenza e manifestazione di sé con le parole e con le opere con i segni e con i miracoli e specialmente con la sua morte e con la gloriosa risurrezione dai morti e infine con l'invio dello Spirito Santo di verità compie e completa la rivelazione e la conferma con la testimonianza divina ecco quello che più o meno ho detto prima però vorrei dire ancora un'altra cosa sulla mentalità relativistica che si sta diffondendo tant'è che abbiamo visto anche delle foto di grandi personalità ecclesiastiche quasi prostrate insomma dinanzi a divinità pagane oppure a santi considerati da altre religioni come tali pagani ecco non va bene questo perché altrimenti in questo relativismo serpeggia l'eresia e forse anche l'apostasia l'eresia è rinnegare alcune delle verità di fede l'apostasia è rinnegare tutta la fede perché chi non riconosce che Gesù Cristo è il figlio di Dio e che è vero Dio è vero uomo e che soltanto in Lui c'è la salvezza questa non è un'eresia questa è un'apostasia cioè rinuncia completamente alla fede e sappiamo le parole durissime di Gesù riguardo all'apostasia o riguardo alla mancanza di fede chi crederà e sarà battezzato sarà salvo ma chi non crederà sarà condannato ecco apostatare dalla fede veramente è una cosa gravissima c'è il rischio se poi alla fine non ci si converte di dannarsi eternamente perché come dicevamo Gesù è il mediatore e la pienezza della rivelazione dunque mediatore perché è Lui che ci fa incontrare Dio e chi non lo riconosce come mediatore dunque unico redentore dell'umanità non si salva quindi dobbiamo dire Gesù è il Signore e nel suo nome nei cieli sulla terra e sotto terra ogni ginocchio deve piegarsi e riconoscere appunto che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre andiamo avanti per questo l'enciclica Redemptoris Missio di San Giovanni Paolo II ripropone alla Chiesa il compito di proclamare il Vangelo ecco vediamo una bella immagine anche di San Giovanni Paolo II che dal cielo ci saluta e ci benedice lui che ha vissuto per Gesù Cristo ecco portava questo bel pastorale con il Cristo crocifisso poiché di nulla diceva l'Apostolo Paolo ci gloriamo se non di Cristo e Cristo crocifisso così anche San Giovanni Paolo II ha vissuto alla luce di Gesù e di Gesù crocifisso e l'abbiamo visto anche negli anni della sua vecchiaia della sua malattia della sua sofferenza come ha saputo portare con veramente con orgoglio la croce di Cristo nella sua carne sapendo che nella sua carne completava quello che mancava ai patimenti di Cristo in favore della Chiesa tant'è che in un bellissimo Angelus definito l'Angelus più carismatico di San Giovanni Paolo II e gli dice affacciato alla finestra di San Pietro ho compreso che vi è un Vangelo superiore il Vangelo della sofferenza il Vangelo chiaramente è uno non c'è un Vangelo inferiore e uno superiore però lui vuole accentuare questo aspetto del Vangelo si giunge alla pienezza del Vangelo quando si è capace di soffrire e anche di morire per Gesù Cristo dunque il martirio è il sigillo del vero Apostolo di Cristo che come Cristo si dona completamente per amore e per la gloria di Dio e per il bene e la salvezza del prossimo andiamo avanti in questa parola definitiva della sua rivelazione dice la Redentorismissio Dio si è fatto conoscere nel modo più pieno e gli ha detto all'umanità chi è dunque in Cristo Dio rivela se stesso e il mistero della sua essenza ma anche rivela l'uomo all'uomo nel volto di Cristo non soltanto noi vediamo il volto del Padre ma vediamo anche il nostro vero volto che siamo fatti appunto a immagine e somiglianza di Dio e questo è meraviglioso perché se Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza pensate la nostra dignità la nostra grandezza quando vediamo che appunto in questo pensiero relativistico che è giunto ormai veramente a situazioni estreme che si assimila l'uomo all'animale al cane alla scimmia o anche al defino o ad altri animali è qualcosa di assurdo l'uomo non è un animale semplicemente l'uomo non è semplicemente un animale razionale l'uomo è un essere creato a immagine e somiglianza di Dio potremmo dire che l'uomo è uno spirito incarnato che ha una componente animale che è quella corporale quella fisica ma che si differenzia essenzialmente da tutti gli animali e da tutte le creature da tutte le cose create dall'intero universo l'uomo ha una dignità che supera l'intero universo creato al centro del creato c'è l'uomo come luogotenente di Dio e come immagine e somiglianza di Dio ma al centro del cuore dell'uomo ci deve essere Dio che gli dà la sua dignità quando l'uomo rinuncia a Dio e rinuncia al Dio che si è rivelato nel volto di Cristo rinuncia alla sua dignità rinuncia a scoprire la sua grandezza rinuncia ad entrare nel suo proprio mistero quello che Gesù ci dice il regno di Dio è dentro di voi dunque nell'intimo del nostro cuore abita Dio questo è il regno di Dio noi siamo capaci di Dio capaci di contenere Dio e di essere contenuti da Dio in questa totale comunione che Cristo nella sua incarnazione è venuto a portare tra la divinità e la nostra umanità andiamo avanti e questa autorivelazione definitiva di Dio è il motivo fondamentale per cui la Chiesa è per sua natura missionaria ecco questo è importante tant'è che l'enciclica del Papa è Redemptoris Missio la Chiesa è per sua natura missionaria noi non possiamo rinunciare ad annunciare il Vangelo ad essere dei missionari nel nostro ambito non soltanto nella missione ad gentes cioè a tutte le genti ma anche nella missione ad intra all'interno della Chiesa stessa tant'è che San Giovanni Paolo II parlava di nuova evangelizzazione c'è bisogno di rievangelizzare l'Occidente perché oggi c'è un analfabetismo religioso cristiano cattolico che fa paura i cattolici non conoscono più i principi minimi della propria fede e questo è gravissimo perché chiaramente quando uno non ha un'identità ben precisa perché non conosce chi è egli stesso né la sua fede né Dio non può difendere questa sua identità dinanzi ad altre identità che sono magari ben fondate ben radicate nei loro principi sbagliati come ad esempio l'Islam l'Occidente rinunciando a Cristo rinunciando alla fede in Lui ha rinunciato alla propria sopravvivenza perché l'Islam lo fagociterà se noi non riscopriamo la fede noi moriremo se noi non riscopriamo la fede noi ci estingueremo l'Europa diventerà islamica e questo ormai è un dato di fatto che soltanto un cieco non vede quindi carissimi riscopriamo la nostra fede e difendiamo con tutto noi stessi i principi della nostra fede la dignità che abbiamo tant'è che mi viene in mente una frase di San Leone Magno che soltamente leggiamo nell'ufficio del giorno di Natale che dice oh cristiano riconosci la tua dignità perché la tua dignità perché Dio si è fatto uomo e dunque ha dato all'uomo una dignità sublime una dignità immensa che non si può paragonare con nessun altro essere creato o nessun'altra creazione di Dio l'uomo è veramente qualcosa di straordinario se è capace di poter contenere il proprio cuore Dio solo la rivelazione di Gesù Cristo continua il documento quindi immette nella nostra storia una verità universale e ultima che provoca la mente dell'uomo a non fermarsi mai dunque noi dobbiamo sempre più approfondire perché il mistero di Dio è immenso è infinito tant'è che diceva San Giovanni della Croce che chi entra in Cristo scopre come una miniera e più si addentra in questa miniera e più trova altri filoni dove ci sono tesori preziosi in Cristo non si finisce mai di conoscere la grandezza di colui che si è fatto uomo per amore dell'uomo e anche la nostra stessa dignità continua il documento e quindi contrario alla fede della Chiesa la tesi circa il carattere limitato incompleto e imperfetto della rivelazione di Gesù Cristo che sarebbe complementare a quella presente nelle altre religioni come se tutte le religioni più o meno fossero uguali come se tutte le religioni potessero in qualche modo salvare oppure realizzare pienamente la vita dell'uomo non è così solo in Cristo vi è un carattere assoluto completo perfetto della rivelazione di Dio e della rivelazione anche del mistero dell'uomo la ragione di fondo dice il documento di questa assersione pretenderebbe rifondarsi sul fatto che la verità su Dio non potrebbe essere colta e manifestata nella sua globalità e completezza da nessuna religione storica quindi neppure dal cristianesimo e neppure da Gesù Cristo questo è assurdo perché basta constatare tutte le religioni sono un cammino dell'uomo che cerca a tentoni come dice l'Apostolo Paolo di trovare Dio cerca in qualche modo di guardare verso l'alto per conoscere chi si nasconde al di là dell'universo ma non ci riesce tant'è che lungo l'arco dei millenni l'uomo si è fatto sempre delle immagini distorti di Dio e antropomorfiche cioè ha dato a Dio o agli dei o agli idoli sempre qualcosa di se stesso perché l'uomo non riesce a uscire dalla sua mente specialmente dopo il peccato originale e quindi ha attribuito alle divinità le virtù ma anche i vizi i difetti e i peccati degli uomini basta soltanto pensare ad esempio agli dei dell'Olimpo avevano dei vizi come gli uomini anche più esasperati degli uomini perché? perché chiaramente in ogni divinità si rispecchiava qualcosa dell'uomo invece nel cristianessimo nel cattolicesimo è l'esatto contrario cioè è Dio che scende dal cielo e si manifesta e si rivela ecco questa è la pretesa assoluta del cattolicesimo e del cristianessimo non è l'uomo che va incontro a Dio ma è Dio che va incontro all'uomo e si rivela nella sua essenza fino a scoprire che Dio come dice San Giovanni è amore e nessuno ha mai fatto questa affermazione così chiara ma è un amore che si dà che si sacrifica che vuole la salvezza dell'uomo che perdona il peccato dell'uomo che si trasforma in misericordia viscerale sulla croce per l'intera umanità e specialmente per i peccatori ecco adesso penso sia giusto salutare alcuni di voi che siete in diretta così entriamo anche in un contatto perché se il mio cellulare non fa le biz ecco allora saluto Patrizia Moxedano Valeria Baldari Concetta Morale Tiziana Aspedicato grazie a voi ieri il mio cellulare fa un po' le bizze non mi fa vedere un po' tutti i vostri contatti e tutti i vostri commenti va bene comunque andiamo avanti vi saluto tutti quanti in ogni caso e tutti vi benedico questa posizione cioè il pensare che le varie religioni possono essere più o meno sullo stesso piano e che tutte in qualche modo possano portare a pienezza e a beatitudine alla vita dell'uomo e anche alla salvezza eterna è sbagliato questa posizione contraddige radicalmente le precedenti affermazioni di fede secondo le quali in Gesù Cristo si dà la piena e completa rivelazione del mistero salvifico di Dio pertanto le parole le opere e l'intero evento storico di Gesù pur essendo limitati in quanto realtà umane tuttavia hanno come soggetto la persona divina del verbo incarnato vero Dio e vero uomo e perciò portano in sé la definitività e la completezza della rivelazione delle vie salvifiche di Dio anche se la profondità del mistero divino in sé stesso rimane trascendente e iniziauribile dunque Dio si rivela come dicevo prima secondo le capacità dell'uomo ma l'uomo non può comprendere tutto il mistero di Dio e mi viene in mente l'episodio di Sant'Agostino quando scrisse il De Trinitate cioè un trattato sulla Santissima Trinità e non riusciva a capire la circunzessione delle persone divine cioè come una persona era nell'altra rimanendo se stessa e passeggiando sulla strada scusate passeggiando sulla spiaggia a un certo punto vide un bambino che con un secchiello andava al mare prendeva un poco di acqua e poi la metteva dentro una buca che aveva scavato nella sabbia e l'acqua chiaramente veniva filtrata dalla sabbia e andava via e faceva continuamente questo lavoro e Sant'Agostino chiese al bambino ma cosa vuoi fare e voglio prendere tutto il mare e metterlo dentro questa buca allora comprese la mente dell'uomo non può contenere tutto intero il mistero di Dio perché Dio è infinito l'uomo invece è un essere finito Dio è increato esiste da sempre l'uomo invece è un essere creato quindi anche se non riusciamo noi a comprendere tutto il mistero di Dio ma quella parte del mistero che ci occorre per poterci salvare e per sapere chi è Dio nella sua essenza almeno in parte della sua essenza questo lo possiamo conoscere proprio perché Dio che ha voluto questo ci ha creati con questa predisposizione e poi ecco carissimi riprendiamo la diretta purtroppo non so come mai dopo circa mezz'ora cade e devo ancora risolvere questo problema tecnico bene continuiamo la lettura del nostro documento faccio qualche condivisione sugli altri paggi intanto vi lascio alla lettura del testo ci siamo quasi l'ultima condivisione bene continuiamo la lettura del testo continua la dominus iesus per questo la fede esige che si professi che il verbo fatto carne in tutto il suo mistero che va dall'incarnazione alla glorificazione e la fonte partecipata mariale e il compimento di ogni rivelazione salvifica di dio all'umanità la risposta adeguata alla rivelazione di dio ecco adesso è quello che compete noi dio si è autorivelato e ha rivelato non soltanto il volto del padre il suo volto di amore ma anche ha rivelato l'uomo all'uomo come deve rispondere l'uomo a questa rivelazione di dio ecco vediamo cosa dice il documento la risposta adeguata alla rivelazione di dio è l'obbedienza della fede l'uomo deve rispondere al dio che si rivela nel volto di cristo con l'obbedienza della fede che poi questo termine obbedienza viene dal latino ab audire cioè ascoltare quindi l'obbedienza della fede non è una sottomissione così come posso dire quasi come quella di uno schiavo ad un padrone di un servo ad un signore no è l'obbedienza dell'ascolto della verità quindi dio che si rivela che è verità assoluta e gesù dirà io sono la via la verità e la vita a questo dio che si rivela in pienezza di verità e di splendore di gloria l'uomo risponde con l'obbedienza della fede per la quale l'uomo si abbandona a dio tutto intero chiaramente l'esempio che facevo prima di un servo ad un signore è nell'ambito umano ma nell'ambito di dio in effetti l'uomo è un servo di dio e dio è un signore misericordioso ma è una dinamica completamente diversa di quella che c'è tra gli uomini tant'è che servo di dio è un titolo per l'uomo è un grande titolo per l'uomo il papa ha come come titolo servo dei servi di dio quindi sappiamo che appunto questo è un grande titolo perché chi ha un'autorità nella chiesa si pone a servizio dei fratelli per morire di dio andiamo avanti dunque l'obbedienza della fede per la quale l'uomo si abbandona a dio tutto intero liberamente prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a dio che rivela e dando il proprio assenso volontario alla rivelazione fatta da lui dunque il proprio intelletto deve ossequiare dio e la sua verità la sua rivelazione così come la volontà dell'uomo deve conformarsi alla volontà divina non può opporsi alla volontà divina nell'intelletto pensare di essere più intelligente e più illuminato della luce che promana dalla rivelazione tant'è che oggi ci sono alcuni che pensano di poter trasformare il Vangelo di cambiare la parola di Cristo un po' come ha fatto San Pietro quando a Gesù che gli diceva il figlio dell'uomo deve soffrire molto essere ripudiato dal suo popolo dagli anziani dagli scrivi e così via poi subire la passione la crocifissione morire e il terzo giorno risorgere e San Pietro lo prende in disparte e si fa lui maestro di Gesù dicendo non sia mai signore non ti accada mai questo Gesù di fronte a tutti e con uno sguardo che lo ha fulminato gli disse allontanati da me Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini nessuno può correggere il figlio di Dio nessuno può cambiare il Vangelo tant'è che l'Apostolo Paolo dice se anche un angelo del cielo chiunque o noi stessi benissimo ad annunciarvi un Vangelo diverso da quello che avete già ricevuto sia anatema cioè sia scomunicato sia fuori dalla comunione con la Chiesa perché nessuno può cambiare o annunciare un Vangelo diverso di quello che è stato annunciato perché la rivelazione di Dio è completa e piena e assoluta attraverso i Suoi Apostoli e neanche gli Apostoli l'avrebbero potuta cambiare perché significerebbe che gli Apostoli sarebbero stati degli Apostati non più degli Apostoli e purtroppo forse oggi qualcuno rischia di cadere in questo gravissimo errore di rinunciare alla fede attraverso l'Apostasia che Dio ci liberi da questo peccato spaventoso che è quello di pensare di poter impugnare la verità rivelata nella tradizione della Chiesa Cattolica questo è uno dei peccati contro lo Spirito Santo che non può essere perdonato che Dio indomini tutti dunque la fede è un dono di grazia perché si possa prestare questa fede è necessaria la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo il quale muove il cuore e lo rivolga a Dio apra gli occhi della mente e dia tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità dunque la fede non è semplicemente un assenso dell'intelletto cioè uno legge qualcosa e dice bene questa cosa è vera ci credo questo è un assenso umano ma poi c'è un assenso soprannaturale che viene dalla grazia è un dono dello Spirito Santo tant'è che l'Apostolo Paolo dice nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo è proprio lui il maestro interiore come viene definito da Sant'Agostino che illumina la mente riscalda il cuore e lo muove all'assenso al consentire nel credere alla verità che Gesù ci rivela il quale è l'unico maestro che dobbiamo seguire servire ascoltare e amare l'obbedienza della fede continua il documento la Dominus Iesus comporta l'accoglienza della verità della rivelazione di Cristo garantita da Dio che è verità con la V maiuscola stessa Dio è verità perché alcuni oggi vorrebbero in qualche modo far prevalere la carità a discapito della verità ma questo non è possibile perché non può esistere una carità senza la verità o una verità senza la carità un amore senza luce e una verità senza amore perché una carità senza verità sarebbe cieca e dunque cadrebbe nel peccato snaturerebbe se stessa così una verità senza carità sarebbe oppressiva opprimerebbe gli altri e li schiavizzerebbe e non li porterebbe alla libertà invece la verità nella carità si compie pienamente perché Gesù ha detto io sono la via la verità e la vita e San Giovanni ha riconosciuto Dio è amore questa verità che si rivela è lo stesso amore che è Dio e poi per noi uomini il primo e fondamentale comandamento per noi che seguiamo come discepoli il Signore è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi e dunque abbiamo verità e carità insieme amatevi la carità come io ho amato voi la verità dunque la carità si invera nell'azione di Cristo nel pensiero di Cristo nella parola di Cristo nell'essere di Cristo invece far prevalere semplicemente la carità significa cadere nella filantropia che può essere umanamente una cosa che sembra buona ma che tante volte non porta nessun frutto dal punto di vista spirituale perché l'uomo si inorgoglisce in se stesso e pensa di essere lui buono lui giusto lui onesto lui santo invece che riconoscere che tutto quello che egli fa non è altro che un dono stesso di Dio e dunque l'uomo diventa soltanto un canale attraverso cui Dio può agire per fare del bene per amare il prossimo e nel prossimo nella luce della verità si riconosce la stessa presenza di Cristo ed ecco che entriamo in una piena comunione in un grande mistero che fa sì che in noi viva Cristo ma quel Cristo che vive in noi lo rivediamo e lo riconosciamo nel volto del sofferente ma anche nel volto sfigurato del peccatore come del Cristo crocifisso e nel volto di ogni uomo che incontriamo dunque verità e carità insieme mai una a discapito dell'altra continuo il documento la fede è innanzitutto una adessione personale dell'uomo a Dio cioè nessuno ci può costringere a credere la fede si impone da se stessa perché ha una forza intrinseca che viene dalla verità che la fede è e dunque l'uomo aderisce personalmente al suo Dio nessuno può come dire interporsi fra noi e Dio se non per aiutarci ad aderire noi direttamente a Dio ma non che un altro potrebbe sostituirsi al nostro atto di fede è impossibile questo l'atto di fede deve nascere dal profondo dal cuore dell'uomo al tempo stesso e inseparabilmente è l'assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato ecco questo accento che il documento pone sulla verità è importantissima la verità perché senza verità non ci può essere un incontro con Dio il quale è essenzialmente anche verità la fede quindi dono di Dio è virtù soprannaturale da Lui infusa comporta una duplice adesione a Dio che rivela e alla verità da Lui rivelata per la fiducia che si accorda alla persona che l'afferma cioè a Dio e in questo caso al figlio di Dio fatto uomo per questo non dobbiamo credere in nessun altro se non in Dio il padre il figlio e lo spirito santo ma è possibile che non si possa capire che l'unico che dice la verità assoluta su Dio e sull'uomo è lo stesso Dio ma è possibile che tutti i miracoli tutti i prodigi tutte le guarigioni tutte le manifestazioni che Dio ha dato in duemila anni attraverso apparizioni di Gesù in modo particolare nel secolo scorso come divina misericordia e tutte le apparizioni mariane tutti i doni che Dio ha fatto tutti i segni è possibile che non riescono a smuovere il cuore di quest'uomo che oggi è talmente indurito nel suo intimo da non riuscire ad aprirsi a queste meraviglie che Dio ha compiuto e che continuamente compie in mezzo a noi è veramente un grande misterio quello che San Paolo definiva misterium iniquitatis il mistero dell'iniquità il mistero del peccato come mai l'uomo scelga la menzogna al posto della verità scelga il male al posto del bene scelga se stesso al posto di Dio è qualcosa di che non è comprensibile è un assurdo che però purtroppo si crea si genera dentro il cuore dell'uomo a causa del peccato dobbiamo fare veramente attenzione a non andare anche noi fuori strada perché è un tempo in cui molti si stanno smarrendo e oggi la menzogna penetra in un modo veramente subdolo nei cuori degli uomini perché come nell'antico peccato originale Satana ha proposto il male sotto forma di bene così ancora oggi è riuscito a rivestire con tutta la sua astuzia tutte le cose più abominevoli come se fossero cose buone e voi pensate l'omicidio di un miliardo e mezzo quasi di bambini viene proposto come se fosse un progresso dell'umanità mai successa nella storia una cosa del genere noi ci troviamo in questo tempo dove i bambini vengono massacrati in ogni modo dentro l'utero materno e a volte anche fuori dal grembo materno e questo viene definito un progresso e alcune volte è un bene per lo stesso bambino è assurdo pensate quello che ha detto un documento stilato a livello europeo sui diritti del bambino disabile uno dei diritti è la possibilità di essere avvortito è assurdo cioè uccidere una persona e dire a quella persona che non ha avuto la possibilità di nascere lo facciamo per il tuo bene è diabolico non si può dire altro è veramente qualcosa di diabolico ed è un uomo che ha rinunciato alla propria intelligenza ecco sono fatte quasi le 23 quindi mi avvio alla conclusione ancora questo questo capitoletto è lungo quindi penso di distaccare qui ecco carissimi vedete quanta quanta ricchezza di contenuti quanta sapienza c'è in questi documenti poi d'altronde questo documento è stato stilato da uno degli uomini più intelligenti del nostro tempo che è Papa Benedetto XVI e poi assecondato rivisto e anche sotto firmato da San Giovanni Paolo II quindi due grandissime personalità del nostro tempo veramente qui c'è una sapienza grandissima nel proporre di nuovo per noi per questa umanità e per questa nostra povera chiesa che oggi si trova abbastanza confusa quelle verità che sono fondamentali perché noi possiamo permanere nella fede in Cristo e possiamo giungere alla vita eterna vi lascio così con una benedizione augurando a voi e alle vostre famiglie alle vostre comunità ogni bene possibile e quello che vi dico rimanete saldi radicati fondati nella fede in Gesù Cristo in quello che abbiamo sempre creduto in quello che il Vangelo afferma con chiarezza è che in duemila anni lo Spirito Santo ci ha rivelato attraverso il Magistero autentico della Chiesa e tutta la vita e gli scritti di tutti i Santi fino a San Giovanni Paolo II ecco perché oggi in questa grande confusione alcuni vorrebbero proporci delle cose che in realtà non sono verità ma sono soltanto una menzogna ben confezionata per condurci fuori strada ma dietro tutto questo c'è colui che viene definito dalla scrittura e dallo stesso Gesù il padre della menzogna ma noi dobbiamo obbedire all'unico Signore all'unico Maestro all'unico Dio che si è fatto uomo Gesù Cristo vero Dio e vero uomo Signore di misericordia Redentore e sacrificato per amore nostro colui che è morto e risorto perché noi un giorno possiamo giungere alla gioia della vita eterna nella beata eternità vi do la santa benedizione e vi lascio con questi pensieri il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente Padre Escilio e Spirito Santo Amen e con questa bella immagine di Gesù concludiamo con il canto fiducia sei per noi alla fede aggiungiamo la fiducia possiamo fidarci sempre del nostro Dio perché ci ama di un amore infinito di un amore sacrificale in avversare l'ultima goccia di sangue per ciascuno di noi Santa Serata a tutti passare Metà a tutti qui cave come California